Prima di iniziare il video lascia un like ed iscriviti al canale, te ne saremmo davvero molto grati. Grazie. L'avvocato Luigi Ferrandino, rappresentante legale della famiglia di Angela Celentano, ha espresso il suo punto di vista in merito all'intervista condotta in Messico con Cristino Ruiz, da cui avrebbero avuto origine i messaggi sotto il nome di Celeste Ruiz. L'uomo ha respinto qualsiasi coinvolgimento proprio o dei suoi parenti nella corrispondenza online iniziata con i familiari della piccola, scomparsa nel 1996. Cristino Ruiz è un bugiardo, ha affermato l'avvocato Ferrandino, delineando i dettagli dell'indagine che ha guidato gli investigatori italiani e l'Interpol a stabilire con certezza un collegamento tra Cristino Ruiz e gli account telefonici e telematici. Usati quest'anno, in concomitanza con il trentesimo compleanno di Angela Celentano. La famiglia ha condiviso una recente immagine della giovane che, attraverso una tecnica avanzata di invecchiamento dell'immagine, mostra un possibile aspetto attuale di Angela, ormai adulta. Nel frattempo, l'avvocato Ferrandino condivide una notizia alquanto promettente e parla di un nuovo lead turco emerso in giugno dell'anno precedente. Secondo quanto affermato da una blogger, Angela si troverebbe in Turchia, accompagnata da un uomo che si spaccia per suo padre.